Oggi direi che possiamo affrontare il documento di gara unico europeo relativamente agli affidamenti dei cosiddetti servizi tecnici, cioè servizi di progettazione e analoghi, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, i servizi sostanzialmente elencati all'articolo 157 del codice. Il documento di gara unico europeo, previsto dall'articolo 85 del codice, come sappiamo, la parola unico vorrebbe dire unico per qualsiasi tipo di gara e per qualsiasi ambito, oltre che per qualsiasi importo. In realtà, per ragioni pratiche, soprattutto per la differenza ontologica che c'è tra gli ambiti dei servizi e forniture, dei lavori e dei servizi tecnici, è opportuno che il documento di gara unico europeo venga in qualche modo implementato in modo specifico relativamente all'ambito nel quale si inquadra l'appalto. In questo caso, l'ambito è quello dei servizi di progettazione, dei servizi tecnici. Molte cose sono naturalmente comuni anche agli altri documenti di gara unico europeo, cioè relativi anche agli altri ambiti, come la parte introduttiva, la parte della denominazione dell'offerente. In questo caso, cercheremo di analizzare le parti che si differenziano, cioè le parti specifiche del documento di gara unico europeo relativamente ai servizi tecnici, cioè i documenti che devono essere compilati dai professionisti o dalle società di ingegneria per accedere alle gare di affidamento di progettazione. Partiamo dal primo punto. L'adattamento del documento di gara unico europeo necessariamente deve tenere conto del diritto interno, oltre che del diritto comunitario. E qui cominciano i dolori. Innanzitutto, l'operatore economico, una micro-impresa, piccola o media-impresa, generalmente sono tutte piccole o medie imprese. C'è solo un caso, almeno in Italia, di una società di ingegneria, di un soggetto deputato alla progettazione, che sia una grande impresa. Quindi il primo punto da affrontare è l'inquadramento giuridico dell'operatore economico. Voi sapete che su questo punto dovrebbero soccorrere le linee guida numero 1 dell'ANAC, intitolate Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, e il decreto ministeriale numero del MIT 263, che stabilisce alcuni requisiti per l'affidamento di questi servizi, o meglio, per i soggetti affidatari di questo tipo di servizi. In realtà, almeno su un punto, tutti e due questi provvedimenti hanno una lacuna non indifferente. In questo senso, ambedue prevedono la partecipazione dei liberi professionisti singoli, dei liberi professionisti associati. I liberi professionisti associati sono i cosiddetti studi associati, cioè le associazioni professionali, previste da una legge del 1939 per motivi razziali, che è stata emessa per impedire che dei professionisti di religione ebraica potessero esercitare in forma associata. Questa legge è stata abrogata. Le associazioni professionali, intese come studi associati, attualmente non sembra possano essere più costituite ersnovo, ma quelle costituite in vigenza di quella legge, cioè fino al 2011, continuano a sopravvivere, perché la norma che l'ha abrogata recita, rimangono ferme tutte le forme diverse da quelle previste dalla presente norma, già in essere, già in atto. Quindi i liberi professionisti associati, da non confondere, come si fa qualche volta, con le associazioni temporanee di progettisti. I liberi professionisti associati, cioè studi associati, associazioni professionali, sono permanenti, non sono occasionali e temporanee. Società di professionisti, di cui l'articolo 2 del decreto ministeriale 2.6.3, sono società costituite esclusivamente da liberi professionisti, anche se multidisciplinari, sono tutti liberi professionisti i soci. Società di ingegneria, che sono società in forma di capitali, o società cooperative, queste invece possono avere soci non professionisti, cioè soci apportatori di capitale. Dove è il problema? Che le società di ingegneria costituite in vigenza del vecchio codice non avevano limitazioni, cioè potevano essere tutte società di soci apportatori di capitale, senza nessun socio professionista. Cioè i soci professionisti non erano obbligatori, ovviamente la società interamente di soci di capitale doveva avere dei professionisti dipendenti, contrattualizzati, altrimenti non poteva chiamarsi società di ingegneria. Prestatori di servizi di ingegneria e architettura in altri stati membri, questo è abbastanza banale, consorsi di società di professionisti e società di ingegneria, cioè consorsi costituiti appositamente, ma dov'è che è la prima lacuna? Che in realtà il legislatore del 2016 e ANAC nel 2016, così come il MIT nel suo decreto, si sono dimenticati che nel nostro sistema esiste un altro decreto del Ministero della Giustizia, in questo caso, numero 34 del 2013, che istituisce le società tra professionisti o professionali to court, nel senso che, anche se in caso di società di persone, possono esserci soci di capitale, cosa che è vietata nelle società di professionisti. Quindi c'è una sovrapposizione di norme tra loro contraddittorie, per cui non si può escludere che nei casi di cui le lettere C o D, cioè le lettere C, società tra tutti i professionisti e società di ingegneria, queste si tratti di società riconducibili al decreto ministeriale 34, cioè società che loro stesse vengono iscritte all'ordine professionale come società e che possono essere miste tra soci apportatori di capitale e soci professionisti. Nelle nuove linee guida sembra che si rimedia questa vacuna, ma le nuove linee guida sono ancora in consultazione. Come per tutti gli altri appalti, quindi per tutti gli altri DGUE, va specificato il ruolo del singolo operatore economico che partecipa in caso di raggruppamento temporaneo. Raggruppamento temporaneo che può essere costituito da uno o qualsiasi dei soggetti citati all'inizio, i quali devono indicare il loro inquadramento giuridico, ma poi devono indicare se partecipano da soli, in questo caso la risposta sarà no, non partecipo alla procedura insieme ad altri, o sì, se sono con altri soggetti. Se sono con altri soggetti, in forma aggregata dovranno indicare la loro figura giuridica, cioè il ruolo che svolgono all'interno della forma aggregata mandanti, imprese di rete, mandatari, ausiliari, ecc. Dopodiché, sempre in caso di forma aggregata, dovranno indicare gli altri operatori economici che partecipano all'interno del raggruppamento temporaneo di professionisti o di operatori economici. Consorzi, nel caso siano consorzi, consorziati, indicati per l'esecuzione, queste due sezioni sostanzialmente sono simili al documento di gara unico europeo per l'ambito dei lavori. Cioè, in buona sostanza, in questa fattispecie i professionisti sono trattati come operatori economici ordinari, cioè come imprese. Lotti, se l'appalto è suddiviso in lotti. La sezione B, informazione sui rappresentanti dell'operatore economico, non ci dilunghiamo perché è comune a tutti i settori, cioè il documento di gara unico europeo per i lavori, per i servizi, per le forniture, per i servizi sociali, per i servizi tecnici, nella sezione B è sostanzialmente identico, cioè vanno dichiarati tutti i soggetti che ricoprono una veste giuridica all'interno dell'operatore economico partecipante. Nel caso i minori sarà solo il titolare da un studio individuale o l'associato dello studio associato o socio di persone di società, ma potrebbero essere tutte le figure previste per le imprese normali, dai revisori ai sindaci, dal consiglio di vigilanza. Naturalmente, qui si tratta queste figure che ci sono solo nelle società di ingegneria abbastanza complesse società di ingegneria all'interno delle quali incontriamo anche una persona giuridica particolare che è il direttore tecnico che esiste solo nelle società di ingegneria, però deve, per forza di cosa, è uno dei soggetti che deve dichiarare la propria esistenza e l'assenza di cause di esclusione imputabili a lui. Abbiamo detto che possiamo andare direttamente ai requisiti perché la sezione C sull'avvalimento e la sezione D sul subappalto sono comuni anche agli altri ambiti, anche se nel subappalto sappiamo che sono molte le limitazioni al subappalto nei servizi di architettura e ingegneria, nel senso che possono essere subappaltate solo attività secondarie, cioè attività di natura strumentale, rilievi, indagini, elaborazioni grafiche, cioè non attività che abbiano un contenuto strettamente intellettuale perché queste ultime non possono essere subappaltate come non può essere subappaltata la relazione geologica. Tuttavia, se il concorrente intende subappaltare alcune di queste prestazioni accessorie, dovrà dichiararlo, altrimenti si inibisce la possibilità di subappaltarle. Si inibisce solo parzialmente perché in realtà vi è una norma sul subappalto che è l'articolo 105,2 lettera A che dice che non costituisce subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Quindi, prestazioni accessorie affidate al lavoratore autonomo potrebbero essere utilizzate anche fuori dal subappalto e quindi non dichiarate in questa sezione. Più in tre abbiamo detto i motivi di esclusione sono sostanzialmente identici per tutti gli ambiti quindi possiamo tranquillamente trascurarli nel senso che la loro disamina è avvenuta o avverrà in altra sede quando si parlerà di altri ambiti merceologici di altri ambiti di oggetto di appalto. Più di interesse sono le sezioni la parte quarta sezioni A, B, C e D cioè i requisiti di partecipazione. Allora sui requisiti di partecipazione le linee guida dell'ANAC numero uno ancora in fase di revisione non sono molto soddisfacenti non sono molto esaustive proviamo comunque ad affrontarle sotto il profilo della dichiarazione che deve presentare il concorrente. Il concorrente se è una società di ingegneria dovrà dichiarare l'iscrizione nella Camera di Commercio nella sezione speciale qualora si tratti di una società ai sensi dell'articolo ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia numero 34 del 2013 nella sezione ordinaria qualora si tratti di società tra professionisti o società di ingegneria istituite e fondate ai sensi del codice dei contratti e non del decreto del Ministero della Giustizia oggetto sociale ovviamente e l'attività sarà un'attività che comincia con il numero 71 nel codice articolo cioè attività tecniche in ogni caso cioè a prescindere che sia una società di ingegneria o una società di professionisti o un professionista individuale cioè in qualunque forma giuridica sia costituito è obbligatoria e per questo che è preflagata in precedenza la risposta sì l'appartenenza a una particolare organizzazione albi ordini ovviamente ognuno dovrà indicare quali a quali ordini risponde l'iscrizione posseduta dal concorrente qui il nome non serve qui serve solo rispondere se si ha la disponibilità di qualcuno iscritto a uno degli ordini richiesti qui vedete sono le quattro fattispecie più comuni in realtà in molte gare ci saranno solo ingegneri e architetti in alcune gare ci saranno solo i geologi in alcune gare gli agronomi saranno richiesti o non saranno richiesti a seconda delle competenze professionali specifiche attenzione possono sempre essere presenti all'interno del raccorpamento concorrente professionisti iscritti ad albi diversi da quelli richiesti ma ovviamente la loro partecipazione sarà facoltativa cioè nessuno vieta se ho richiesto un ingegnere o un architetto nessuno vieta che partecipi anche e ripeto anche un perito industriale o un geometra o un agronomo anche se non richiesto ma dovrà essere superfluo rispetto a quanto richiesto cioè in eccellenza di interesse sono la capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa la capacità economica finanziaria si riduce al fatturato e qui bisogna fare attenzione sostanzialmente a una cosa il vecchio articolo 41 del codice dei contratti abrogato così come l'articolo 83 del nuovo codice richiedono una motivazione qualora si richieda un fatturato nei servizi tecnici professionali in realtà anche in tutte le altre gare cioè il fatturato può essere richiesto solo se motivato dalla stazione appaltante motivato dove dalla determina a contrattare è chiaro che una soluzione semplificatoria è quella di non richiedere mai il fatturato e la cosa finisce lì ma se si richiede va specificato il perché si richiede il fatturato negli ultimi cinque anni o nei migliori tre anni negli ultimi cinque qui le linee guida non sono vincolanti quindi possono essere come si può dire disattese purché in senso ragionevole cioè non non si può chiedere comunque un fatturato eccessivo come non si può chiedere un fatturato irrisorio ma richiesto un fatturato in qualche modo proporzionato all'oggetto della gara cioè all'importo a base di gara la norma comunitaria e il codice che l'ha recepita richiedono che il fatturato non sia mai superiore al doppio dell'importo oggetto di gara salvo casi eccessionali da motivare a loro volta quindi non solo una motivazione del perché viene richiesto il fatturato ma anche un'ulteriore motivazione del perché il fatturato viene richiesto in misura superiore a quella ordinaria che abbiamo detto può essere due volte l'importo a base di gara il bando di gara può prevedere che in luogo del fatturato venga richiesta una assicurazione ma anche questo sembra una condizione superflua perché in base alla legge 183 del 2011 ormai tutti i professionisti devono essere dotati di polizza assicurativa adeguata quindi è un requisito che è posseduto per legge quello che non si può chiedere sia il fatturato e sia l'assicurazione mentre si può chiedere il fatturato o in alternativa qualora non sia disponibile il fatturato l'assicurazione abbiamo detto però che questa fase è questo requisito è facoltativo quindi non è di eccessiva importanza più problematica sono le capacità tecniche o professionali ora ANAC la fa facile nel senso che ha fatto un copia e incolla del vecchio articolo 263 del regolamento abrogato sul punto cosa dice ANAC per le capacità tecniche e professionali avete bisogno di tre requisiti uno i lavori un numero di lavori per un importo vediamo dopo quale per i quali sono stati svolti servizi tecnici negli ultimi dieci anni ora con un indirizzo non condivisibile ma ormai accolto anche in giurisprudenza questi servizi svolti possono essere servizi di qualsiasi tipo cioè non si può discriminare tra progettazione studi di fattibilità livelli di progettazione coordinamento sicurezza direzione dei lavori e collaudo paradossalmente personalmente lo ritengo in conto il senso ma ormai è così chi ha fatto solo collaudi purché per un importo di lavori sufficiente può essere qualificato per la progettazione chi ha fatto solo coordinamento per la sicurezza può essere qualificato per i collaudi l'ostacolo più grosso non è nemmeno questo perché questo ripeto non sarà condivisibile ma è scolpito nella linea guida e anche nelle sentenze della magistratura i veri problemi nascono dopo allora in un certo numero di anni dieci anni che tuttavia possono essere ridotti a cinque perché dieci anni sono francamente eccessivi cioè i lavori che hai progettato le prestazioni che hai svolto otto nove sette anni fa non aggiungono nulla ai requisiti che tu hai cioè non mi danno nessuna garanzia di serietà della tua partecipazione perché negli ultimi dieci anni sono cambiate le cose sono cambiate le norme tecniche sono cambiate diecimila normative sono intervenute nuove discipline un progetto di nove anni fa non sapeva neanche cos'erano gli apprestamenti per il risparmio energetico non sapevano cos'erano i criteri ambientali quindi il periodo di dieci anni che è il massimo a mio avviso può essere ridotto motivatamente a meno anche perché la stessa direttiva e lo stesso codice dicono che questo periodo non dovrebbe essere superiore a tre anni se non per cause motivate quindi già cinque dieci anni sono un eccesso comunque vanno dichiarati i lavori per i quali sono stati svolti i servizi per ciascuna delle categorie come individuate nella gara queste categorie cosa sono? sono quelle previste nella tabella Z1 del decreto del ministero della giustizia 17 giugno 2016 famose edilizia da E1 a E22 gli impianti da IA01 a IB08 le strutture da S1 a S6 e via andare cioè per ognuno di questi come individuati nel bando cioè presenti nelle opere da progettare o da dirigere deve essere svolto uno o più servizi per lavori di un importo che sia almeno pari a quello a base di gara almeno pari ma fino a due volte cioè da una a due volte quello previsto nel progetto sul quale vanno svolte le prestazioni dopodiché il secondo requisito sono i cosiddetti servizi di punta cosa sono i servizi di punta? sono lavori per i quali sono stati svolti i servizi ma questo requisito non possono concorrere più di due servizi o meglio più di due lavori e la somma di questi due lavori deve corrispondere da 0,40 a 0,80 volte l'importo dei lavori a base di gara questo sempre per ciascuna delle categorie individuate nel bando su questi servizi di punta che sarebbe meglio dire lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta ci sono state nel tempo alcuni contrasti giurisprudenziali la norma sembrerebbe chiara cioè richiede la norma in realtà non è più una norma perché non è più un regolamento ma una linea guida comunque la linea guida è chiara sul punto ricalcando il regolamento vecchio due lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici il cui importo complessivo sia pari o superiore a un coefficiente da 0,40 a 0,80 volte quello a base di gara quindi una prima lettura è stata che devono essere stati svolti i servizi per due lavori la seconda lettura che è più ragionevole è che devono essere stati svolti non più di due servizi non possono concorrere all'importo più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi perché la seconda soluzione è più ragionevole ed è condivisa ormai tra le più recenti sentenze di appello perché diversamente opinando qualora fossero obbligatori i due servizi chi ha fatto un progetto talmente grosso da surclassare il requisito sarebbe obbligato a cercarsi un progetto di pochi euro per poter soddisfare la condizione dei due lavori mentre è ovvio che con la parola complessivamente la norma intendeva ammettere anche un solo lavoro se da solo assolve e risponde al requisito in termini di importo in realtà nell'esaminare questo requisito cioè quando si presentano le dichiarazioni l'ostacolo più grosso è dato da l'imputazione del servizio svolto cioè del soggetto che può dichiarare questo requisito perché è vero che lo dichiara il concorrente ma essendo un requisito che risale a 5 o 10 anni addietro con tutto lo spin off di società e di soggetti che è intervenuto in questi 10 anni società che si sono divise direttori tecnici che hanno firmato un progetto sono passati da una società all'altra direttori tecnici o soci di società di ingegneria che si sono messi in proprio che si sono fusi che si sono divisi cioè è un movimento infernale per cui diventa difficile capire a chi va imputato il lavoro mi spiego meglio se una scuola le strutture di una scuola sono state progettate dall'architetto A che faceva parte della società di ingegneria B ma oggi questo architetto A non fa più parte della società di ingegneria B ma dalla società di ingegneria C o si è messo in proprio quella struttura di quella scuola quel lavoro a chi va imputato alla società dove era incardinato l'architetto il direttore tecnico all'architetto direttore tecnico da solo o alla nuova società dove il direttore tecnico si è trascinato i requisiti inoltre succede spesso che i lavori per i quali sono stati svolti i servizi siano stati spezzettati cioè A e B abbiano svolto la direzione lavori collegialmente e A e B oggi si presentino in due compagini separate a chi imputare la direzione lavori le strutture siano state progettate da un professionista e dirette da un altro professionista che partecipano separatamente queste strutture quindi concorrono due volte una volta per un professionista che ha fatto la presentazione e una seconda volta per il professionista che ha fatto la direzione lavori e forse anche per un terzo che ne ha fatto il collaudo capite che è facile scadere in una finzione giuridica per cui è impossibile verificare se queste dichiarazioni corrispondono alla realtà o addirittura sono verosimili è un problema alla cui soluzione io non posso dare nessun contributo se non nel caso specifico il terzo requisito l'ultimo requisito tecnico organizzativo è il personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni ora va detto che il requisito uno è richiesto per qualsiasi gara di importo superiore ai 100.000 euro i requisiti due e tre sono richiesti solo per le gare di importo superiori alla soglia comunitaria il requisito tre l'organico medioanno in buona sostanza va dimostrato va dichiarato in primo luogo successivamente se nel caso va dimostrato che il concorrente ha gestito un numero di unità di personale tecnico quindi non personale amministrativo pari ad almeno una o due volte il personale tecnico necessario per lo svolgimento dell'incarico ora il numero medio di personale tecnico negli ultimi tre anni non va individuato a caso ma va individuato in proporzione all'importo della progettazione quindi in base alla producibilità al fatturato che può fare un dipendente tecnico e in base ai tempi di progettazione e all'importo di progettazione con una semplice operazione aritmetica verrà individuato il numero di unità tecniche necessarie allo svolgimento dell'incarico e lì si deciderà se richiedere un requisito pari a quel numero o pari a un multiplo fino a un massimo di due di quel numero questo devo dire che per le società di ingegneria e per i professionisti liberi è il requisito più problematico ma per una questione extra giuridica è che molti soggetti fanno lavorare nei propri studi del personale assimilabile agli schiavi etiopi che poi non si può dichiarare come personale tecnico utilizzato nella linea guida numero uno di ANAC c'è su questo punto un altro deficit un'altra lacuna le linee guida sostengono peraltro in assoluta continuità col vecchio regolamento abrogato che per il personale tecnico si intendono in caso di professionisti singoli i professionisti e basta se c'è bisogno di più persone devono essere più professionisti associati tra di loro in caso di società di ingegneria o società tra professionisti si intendono anche i dipendenti tecnici o i dipendenti contrattualizzati che abbiano fatturato almeno il 50% nei confronti della società nell'ultimo anno in base alla dichiarazione IVA ora perché dico c'è una lacuna ma se sono ammessi i dipendenti tecnici delle società di ingegneria non c'è ragione perché non siano ammessi anche i dipendenti tecnici dei professionisti singoli o delle associazioni professionali vige un principio comunitario ineludibile e quindi che supera qualsiasi non solo qualsiasi linea guidana ma supererebbe qualsiasi disposizione di legge nazionale che è il divieto perché discende dai trattati e non dalla direttiva il divieto di discriminare gli operatori economici in base alla loro composizione giuridica quindi un professionista singolo può tranquillamente dichiarare per il personale tecnico gli eventuali dipendenti tecnici che lui abbia utilizzato negli ultimi tre anni questa soluzione non è riservata alle società ma è estensibile in base al diritto comunitario ai libri professionisti o alle associazioni professionali esauriti requisiti tecnici è necessario individuare anche il personale perché lo richiede la norma specifica che vanno individuati i soggetti non i soggetti utilizzati negli ultimi tre anni che sono cosa diversa dei quali il cui nome o la cui individuazione personale soggettiva non interessa a nessuno ma i soggetti che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico cioè lo staff che si vuole impiegare che non è necessariamente tutta la società di ingegneria o tutti i dipendenti del libro professionista ma solo quelli che intende impiegare con nome e cognome perché vanno individuati personalmente ordine e abilitazione in realtà l'abilitazione non è richiesta abilitato da non è richiesto esattamente dalla norma ma serve per individuare la presenza o meno di un cosiddetto giovane professionista tant'è che in questa sezione oltre a indicare il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste dall'articolo 24 comma 5 secondo periodo del codice che non sarà inutile ripetere il nome basterà mettere il numero di riferimento all'elenco che precede potrà anche dire potrà risultare dalla data di abilitazione l'eventuale giovane professionista la cui presenza è obbligatoria in caso di operatore economico raggruppato o meglio in caso di raggruppamento temporaneo nel senso che un operatore qualsiasi tra quelli raggruppati deve avere la presenza di almeno un giovane professionista dopo di che tra sempre tre soggetti sarà indicato chi ha particolari specializzazioni richieste dal bando coordinatore per la sicurezza qualificato nei sensi dell'articolo 98 un restauratore un progettista antincendio o un geologo qualora ovviamente queste figure siano richieste nel caso specifico diversamente si può omettere tranquillamente il quadro sistemi di qualità e sistemi di garanzia ambientale non hanno bisogno di particolari spiegazioni in quanto sono superflui la parte dichiarazione finale con il classico sistema secondo cui chi presenta il documento sottoscritta per sé oppure per altri per tutti gli altri che appartengono alla sua organizzazione non al suo agglupamento perché ogni reglupato presenta un documento di gara unico europeo ma per altri soggetti che appartengono alla sua organizzazione cioè incardinati nello stesso operatore economico oppure nel caso dichiari solo per sé ovviamente ci vuole la firma anche degli altri dichiaranti che dichiarano le proprie condizioni specifiche una particolare che non è previsto ovviamente dal documento di gara unico europeo ma che è necessario in base all'ordinamento italiano è costituito da alcuni appendici in particolare l'appendice 5 che riguarda i raggruppamenti temporanei perché in caso di raggruppamento temporaneo ciascun raggruppato presenta un proprio documento di gara unico europeo ma il mandatario dovrà dirmi chi fa cosa cioè se la progettazione è definitiva esecutiva piuttosto che coordinamento per la sicurezza li fa il mandatario o quale mandante cioè l'amministrazione appaltatrice deve sapere esattamente chi fa cosa ancorché la responsabilità sia riconducibile alla mandataria e nei casi previsti dalla norma alla responsabilità solidale di tutti i raggruppati e poi le prestazioni particolari per le quali ci vuole l'individuazione soggettiva coordinamento e la sicurezza in fase di progetto in fase esecutiva e la relazione geologica un'altra sezione questa per tutti gli apparti sopra i 100.000 euro riguarda la dichiarazione dei servizi svolti quella che abbiamo visto alla sezione C della parte quarta va individuato il lavoro la descrizione sommaria il committente l'ubicazione servizi svolti che potranno essere studi di fattibilità progetto preliminare progetto definitivo esecutivo ordinamento collaudo quello che si vuole l'ID delle opere che potrebbe essere predisposto dalla sezione appaltante in base alla categoria presente nel bando l'ID da bando l'ID effettivo perché effettivo perché potrebbe accadere che il bando richiede la S06 però il concorrente ha la S05 e guarda caso chi ha la S05 può concorrere anche con la S06 cioè il requisito richiesto è il requisito se diverso ammissibile il grado di complessità del lavoro svolto il periodo di ultimazione e di inizio per certificare che rientra all'interno del range di 5 o 10 anni e gli importi nel solo caso di lavori di servizi tecnici superiori pari o superiori alla soglia comunitaria il modello dovrebbe prevedere prevedere una ulteriore clausola se uno o più di uno di questi lavori costituiscono i servizi di punta cioè uno o più lavori sono quel requisito concorrono a quel requisito per cui devono essere devono concorrere non più di due alla misura di 0 da 0,40 a 0,80 dell'importo da progettare questo per ciascun lavoro ma ciascun lavoro potrebbe avere una o più categorie o limitarsi a una sola categoria perciò questo quadro va ripetuto n volte sempre per i servizi superiori alla soglia comunitaria un dettaglio di come è calcolato il requisito dell'unità tecnica di personale titolari associati professionisti durati in giorno del rapporto all'interno del triennio perché non è detto anzi non succede quasi mai che il rapporto sia per l'intero triennio potrebbe essere per una frazione a tempo pieno a tempo parziale riproporzionato in funzione dell'orario a tempo intermittente che sono tutte figure previste dal Jobs Act collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui l'articolo 62 da Regia Biagi oggi non ci sono più ma in realtà siccome andiamo indietro tre anni possono sussistere non solo ma potrebbero sussistere anche oggi se hanno un contratto stipulato prima del 20 giugno 2015 perché l'articolo 55 del Jobs Act dice che rimangono in essere i contratti a progetto stipulati anteriormente all'entrata in vigore collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa purché stipulati prima del 24 ottobre 2003 anche questi perché una sentenza della Corte Costituzionale li ha tenuti in vita se stipulati prima di quella data credo che probabilmente questa sia una fattispecie che oggi non dovrebbe più esistere perché faccio fatica a individuare un co-co-co contratto realizzato prima dell'ottobre 2003 consulenti o collaboratori con contratto su base almeno annua che firmano gli atti scritti agli ordini muniti di partita IVA che hanno fatturato il 50% almeno a favore del dichiarante la somma dei giorni di durata del rapporto di questi soggetti farà i giorni totali del triennio che divisi per 365 daranno gli anni uomo e divisi per 3 daranno la media annua dell'unità di personale tecnico utilizzato in caso di raggruppamento temporaneo ognuno deve dichiarare per sé non l'unità tecnica degli altri è la stazione appaltante che farà le somme per vedere se sussiste il requisito quindi non facciamo dichiarazioni miste come si vedono spesso per quanto riguarda poi le quote di partecipazione le linee guida rendono facoltativa la richiesta di quote minime di partecipazione per la sola mandataria per le mandanti è vietato chiedere quote minime di partecipazione io suggerisco di non chiederle nemmeno per la mandataria perché è indutile complicarsi la vita l'unico requisito indispensabile è che la mandataria abbia i requisiti o meglio faccia valere in gara i requisiti in misura prevalente rispetto ad ogni altro mandante in misura superiore a ciascun altro singolo mandante questo è l'unico requisito che può avere qualche interesse una ultima osservazione alle linee guida ANAC è che le linee guida richiedono la quote di partecipazione della mandataria per ciascuna delle categorie individuate nel bando ora questa è una palese sciocchezza perché se la mandataria avesse la quota prevalente per ciascuna delle categorie non esisterebbero più i raggruppamenti verticali sarebbero tutti orizzontali quindi io ritengo che si debba indicare nella documentazione di gara che la mandataria debba avere la partecipazione prevalente i requisiti prevalenti almeno nella categoria prevalente rispetto a quelle secondarie cioè nella categoria di maggior importo tra quelle previste dal bando altrimenti la mandataria dovrebbe essere in possesso cioè non potrebbe esserci una mandataria solo architettonica perché dovrebbe avere una frazione di impianti una frazione di strutture una frazione di ciascuna categoria individuata dal bando la conclusione può essere che per partecipare a legare per servizi tecnici è molto più complesso che non partecipare a legare per lavori o servizi ordinari o forniture per la complessità del sistema e anche perché i requisiti non sono tarati sui servizi svolti ma sui lavori per i quali sono stati svolti servizi cioè con una deviazione rispetto ai principi generali noti dall'ordinamento sui requisiti grazie